E' chiaro che affrontare in questo momento l'argomento allenatore credo sia molto prematuro perché siamo al 16 di febbraio e contano esclusivamente le notizie e quindi più avanti sicuramente le notizie arriveranno, avremo una ricostruzione più fedele alla realtà dei fatti e con il giusto timing analizzeremo attentamente quali saranno le mosse della Juventus per la stagione 2024-2025. Dobbiamo pensare anche un po' al mercato, non tanto anche qui concretamente sulle mosse che la Juventus effettuerà in entrata, che saranno secondo me oculate, mirate, atte poi a inalzare il tasso qualitativo dell'organico. Come vi ho già detto mi risulta che la Juve sia particolarmente attenta al mercato dei parametri zero, Felipe Anderson è sempre il nome caldo, ma non è l'unico e dobbiamo essere bravi a cercare di carpire quali possano essere altri nomi che possano attirare l'attenzione della Juventus. E poi c'è l'argomento centrocampista con i bianconeri che un investimento lo faranno, anche qui per inalzare il tasso qualitativo dell'organico. Ovvio che bisogna far combaciare le esigenze tecniche, quelle economiche, ma abbiamo ben capito come la Juventus stia viaggiando spedita verso il concetto di sostenibilità, cercare di alimentare questo tragitto, questo percorso per fare in modo che i club sia più sostenibile che i conti inizino a tornare. Però, se devo farvi un'umilissima previsione circa un calciatore con la valigia in mano, il primo nome che mi viene, ricostruendo un po' l'intero quadro, è quello di Filip Kostic. Attenzione, io credo che alle volte, io per primo, siamo molto critici nei confronti di questo giocatore, perché poi molto dipende anche dalla richiesta dell'allenatore, se ti chiede grande sacrificio, cerchi di applicarti, un po' snaturandoti, ma credo che complessivamente Kostic, nel bene e nel male, cerchi sempre di dare il 100%, cioè un onestissimo attaccamento alla maglia. Sicuramente nella passata stagione abbiamo visto un giocatore più pimpante, in questa, i numeri non è che siano così malaccio, abbiamo la netta percezione di una forte regressione, perché le presenze, considerando la Coppa Italia stagionali, sono 23 e gli assist 4 tutti proposti in campionato. Cosa paga Kostic, al di là dell'impianto tattico che probabilmente non lo valorizza o che lo vede eccessivamente concentrato sulla fase difensiva, sebbene anche qui non siano mancati gli errori, ci sono state delle situazioni di gioco dove la Juventus ha preso gol, la difesa schierata, dove Kostic ha un po' sonnecchiato, comunque non è stato perfetto in fase difensiva. Allora, noi non dobbiamo mai dimenticarci l'ultima estate di Kostic, cosa abbia vissuto, perché le prime due gare ufficiali, Kostic non le ha giocate, 0 minuti, perché c'era il mercato aperto e c'era un dialogo in atto con gli USM, che poi non ha convinto la Juve, perché gli Hummers ragionavano sulla base di un presito con diritto di riscatto, magari con una fee onerosa. Alla Juve Kostic non ha mai, qua giungo giustamente, voluto sbrenderlo, perché nella passata stagione è stato a tutti gli effetti uno dei giocatori più positivi all'interno di un'annata da montagne russe, e poi, lo sappiamo, quale sia il menù forte, il piatto forte della casa, l'assist, e la Juve è legittimamente non aperto a una cessione temporanea, anche perché Kostic è un giocatore che ha 31 anni e quindi o monetizzi o rischi di trascinartelo, tenendo conto di come Pippo, così affettuosamente chiamato alla continassa, abbia un contratto in essere fino al 30 giugno 2026. Io credo che nella passata stagione la Juventus lo abbia pagato anche il giusto, lui aveva una situazione, se non ero particolare, con l'Aintracht andava in scadenza, non voleva rinnovare, comunque alla fine della fiera la Juve ha garantito al club tedesco 12 milioni pagabili in tre esercizi, più credo un milione e mezzo il classico contributo di solidarietà e fino a un massimo di 3 milioni di bonus a verificarsi determinati obiettivi sportivi barra condizioni. Quindi a livello, diciamo, costo proprio in sé, sull'asse Torino-Francoforte, un'operazione da massimo 15 milioni. E mi sembra che di ragazzo valga questi soldi, poi dobbiamo considerare che due annate ragionando in funzione del mercato estivo 2024 saranno alle spalle e quindi sarà un giocatore concretamente vendibile, specialmente perché secondo me Kostic può andare dappertutto, può andare in Premier, può magari tornare eventualmente qualora ne avesse voglia in Bundesliga, può essere anche un'idea per la Spagna, per la stessa Francia, quindi lo stipendio sui 3 milioni netti, se non sbaglio, quindi abbiamo visto sicuramente situazioni peggiori. A gennaio ci sono state anche le sirene da parte del mercato saudita, con un paio di squadre che hanno provato a sondare l'umore di Kostic attraverso il suo entourage, ma come vi avevo detto e come è andata, Kostic non ha minimamente aperto a queste ipotesi a gennaio. Per quanto riguarda l'estate non lo so perché non sono nella testa di Philippe, ma magari anche la rabbia saudita potrebbe tornare alla carica e a quel punto farebbe probabilmente anche un favore in termini di richiesta alla stessa Juve. Vi ho detto quanto la Juventus ha speso per prendere la line track, ma voglio sapere qua sotto nei commenti quanto chiedereste per vendere Kostic e quanto pensate che valga, proprio come richiesta ufficiale. Ora, le vie del mercato sono infinite, gli orizzonti anche a livello di panchine, però è che la Juventus continui con Allegri, è che cambi guida tecnica, mi sorprenderebbe tantissimo se Kostic dovesse proporre una terza annata all'ombra della mole, proprio perché, non lo so, mi sembra che si stia un po' trascinando. Poi qualche altro assist lo farà da qui al prosiego, speriamo anche il primo gol ufficiale in stagione e c'è bisogno che segnino anche i cosiddetti quinti. Ma probabilmente già estate 2023 quei segnali che hanno portato la Juve quantomeno a riflettere sulla sua situazione ha un po' compromesso questo matrimonio. Poi, il ragazzo è serio, come vi ho detto, il ragazzo mi risulta che si alleni sempre a mille, ma se uno pensa a un'evoluzione anche offensiva, un'evoluzione qualitativamente più rosea, Kostic è un giocatore che ha dei limiti, perché non ha il dribbling, è un giocatore che o ti salta in velocità o fa fatica, sul piede è debole, neanche a parlarne, poi è uno che quando mette il cross, primo, secondo palo, raso terra, non fa mai cose banali. Ma lì ci vuole, come dicono quelli giovani, un upgrade, comunque cercare di migliorare la situazione e con il contratto in scadenza 30 giugno 2026 penso che cederlo nell'estate 2024, quella che vivremo tra qualche mese, possa essere l'unica possibilità per monetizzare al massimo quello che puoi monetizzare del giocatore che ha già superato i 30 anni e che a novembre ne compirà 32. Però è integro, ha un curriculum internazionale non banale, però ecco, qualora mi chiedeste un nome, secondo me, tra i più papabili da lasciare la Juventus in quest'estate, il maggior indiziato penso possa essere proprio Filippo Kostic.